Un nuovo apparecchio ecografico portatile dotato di un tablet che permetterà agli utilizzatori finali, il personale del team accessi vascolari, di andare ad effettuare la visita direttamente al letto del paziente che la necessita. E' questa la nuova donazione ricevuta dall'ASLA Toscana Sud-Est. Servirà sia per fare diagnosi vascolari ma soprattutto per introdurre il PIC, che è un ago particolare a lunga durata che viene introdotto in pazienti che hanno bisogno di terapie di lunga durata e per essere introdotto ha bisogno di una guida ecografica per essere introdotto in sicurezza. Per cui questo piccolo strumento ad alta tecnologia sarà utilizzato non solo dentro l'ospedale ma anche a domicilio e addirittura nei vari istituti di cui avranno bisogno. Particolarmente devo ringraziare il collega Riccardo Battistini che sarà a capo del team accessi vascolari e pertanto utilizzerà questa utilissima strumentazione tecnologica e porterà sicuramente un servizio a tutta la popolazione provinciale. Si tratta di un dono di Rotary Club e Vespa Club Arezzo che hanno unito i loro sforzi e fondi raccolti per l'acquisto dell'apparecchiatura. Purtroppo quest'anno a causa dell'emergenza Covid non abbiamo potuto fare il nostro raduno solito che facciamo sempre il primo maggio e insieme al consiglio del Vespa Club Arezzo abbiamo pensato di farlo virtuale e tramite queste iscrizioni il ricavato di tutte le iscrizioni è stato usato per l'acquisto di questi macchinari con l'aiuto del Rotary Club che ha contribuito anche lui con lo stesso importo di quello ricavato da noi. La generosità però non finisce qui, è stato infatti donato anche un personal computer destinato all'organizzazione Toscana Trapianti. La solidarietà non si ferma e testimonia un importante cuore positivo degli aretini e della comunità aretina e della provincia di Arezzo. Siamo orgogliosi di far parte di questo sistema sanitario in una città che ha questa sensibilità.